Traguardo storico per la Fano Grosseto al via la progettazione della seconda canna della galleria della Guinza un passo in avanti per realizzare la E78 a quattro corsie. Casa Bartoli lasciata all'abbandono, i residenti della Trave chiedono al comune di riqualificare con urgenza l'area diventata pericolosa e in completo degrado. Svolta per l'area dell'ex zuccherificio a Fano, acquistata da due imprenditori per un'operazione da oltre 6 milioni di euro da definire la destinazione tra poco in collegamento, sindaco di Fano Massimo Serri. La Rocca Malatestiana apre agli artisti contemporanei al via la prima delle otto mostre che verranno allestite fino al prossimo ottobre. Buonasera e bentornati sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con l'annuncio della regione sulla Fano Grosseto perché il Ministero delle Infrastrutture ha autorizzato l'anticipazione delle risorse per progettare il completamento a quattro corsie dell'E78 fino a Mercatello Ovest. è arrivato l'ok anche per la seconda canna della Guinza. Un traguardo né semplice né scontato, un passaggio storico che dà una vera svolta alla Fano Grosseto. Il governatore Francesco Acquaroli e l'assessore all'infrastrutture Francesco Baldelli hanno annunciato così le novità per l'opera marchigiana nota come l'incompiuta delle incompiute. Documenti alla mano, in conferenza stampa sono state ripercorse tutte le tappe, gli incontri a Roma e l'importante risposta è arrivata il 13 aprile scorso, quando il Ministero ha autorizzato l'anticipazione delle risorse per la progettazione della seconda canna della Guinza e per il completamento a quattro corsie dell'E78 fino a Mercatello Ovest. Questo, ha sottolineato Acquaroli, significa che tra tre anni, quando avremo il progetto esecutivo non dovremo aspettare un altro accordo di programma perché avremo subito la possibilità di finanziare il cantiere dimezzando i tempi. Dopo oltre 30 anni, ha giunto il Presidente, verrà ridata dignità a quest'opera strategica per i collegamenti e sulla Guinza ha detto è come se buttassimo giù un muro tra due realtà che porterà benefici sia per quanto riguarda i servizi sia per il commercio e il turismo. Da una prospettiva a quel tratto della Fano Grosseto ma a quei territori in particolari molto positiva nel breve tempo. Un breve tempo che chiaramente trattandosi di un'opera molto importante presuppone comunque una progettazione che dura mesi e anni e un cantiere che potrà vedere la luce appunto fra qualche anno. Ma parliamo di un'opera economicamente molto rilevante e che rappresenta uno snodo cruciale per la realizzazione della Fano Grosseto perché questa opera da sola cuba qualche centinaio di milioni di investimento. Con la riapertura della prima galleria e la realizzazione della seconda, Marche, Umbria e Toscana si collegano molto più velocemente. Poi chiaramente è un presupposto per vedere realizzata finalmente la Fano Grosseto. Nel dettaglio, come ha spiegato l'assessore Baldelli, a sbloccare il progetto a quattro corsie è stato uno studio richiesto dalla Regione ed eseguito dall'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti. Infatti è emerso che un'arteria a due corsie sarebbe obsoleta già prima di essere realizzata perché porterebbe ad una saturazione di traffico del 92%. Lo studio quindi ha smentito quelli effettuati precedentemente da ANAS e ha dimostrato che considerando l'incidenza con la bretella Fabriano Fossombrone e con quella che collega la Carpegna Sant'Angelo Invado, il traffico della Fano Grosseto non sarebbe di 6.000 mezzi per senso di marcia ogni giorno ma di 26.500 veicoli. Inoltre, grazie alle quattro corsie e alla realizzazione delle due bretelle, il traffico pendolare nella Regione potrà diminuire, ha spiegato Baldelli, di 115 milioni di chilometri all'anno. Per fare un paragone, ha detto, si farebbero risparmiare agli automobilisti che percorrono i nostri territori circa 2.870 giri della terra all'anno. Abbiamo ottenuto anche una progettazione che tecnicamente non si dice più C1, quindi una strada che ha delle caratteristiche geometriche di larghezza di 10,50 metri, ma andiamo a progettare una B, o quindi una superstrada che poi verrà realizzata a stralci lungo il percorso a seconda ovviamente delle risorse disponibili perché l'investimento è rilevante. Ma le marche hanno ottenuto finalmente il riconoscimento sul quale negli ultimi decenni o almeno nell'ultimo decennio non si era lavorato di ottenere una vera superstrada che colleghi il mare Adriatico al Martirreno, Trafano e Grosseto. L'8 maggio, a proseguito Baldelli, si concluderà la conferenza di servizi tra Regione Anas e gli altri enti coinvolti. Dopodiché si potranno vedere i mezzi all'opera sui lotti 2 e 3, cioè quelli che collegano le marche all'Umbria. Poi si proseguirà con la progettazione e la realizzazione dei tratti restanti fino al completamento della superstrada. La Regione Marche sta lavorando anche sulle bretelle che giustificano una quattro corsie tra Fano e Grosseto, le bretelle che collegheranno il Monte Feltro, quel territorio che ha subito tanto negli anni passati, tanto che se ne è distaccato in parte e se ne è andato in Emilia Romagna per collegare i territori del Monte Feltro fino a Sant'Angelo Invado, quindi da Carpegna a Sant'Angelo Invado lungo la Fano Grosseto, ma anche sbloccare un'altra incompiuta, la Fabriano Sassoferrato, quindi la Pedemontana intervalliva Fabriano Sassoferrato Pergola Fossombrone che giustifica appunto in nome della sostenibilità perché faremo risparmiare centinaia di milioni di chilometri all'anno ai nostri automobilisti, quindi si guadagnerà in emissioni di CO2, si guadagnerà in sicurezza, si guadagnerà anche innescando processi di sviluppo economico del territorio. Dicevamo la Regione Marche sta lavorando anche agli studi, alle progettazioni di queste due bretelle che giustificano appunto una Fano Grosseto a quattro corsie. La Polizia Stradale di Ancona ha sequestrato più di 100 quintali di carne congelata destinata al consumo alimentare. La merce è stata rinvenuta all'interno di un mezzo guidato da un cittadino di origine greca che trasportava carni fresche dalla Francia alla Grecia, ma anziché tenerle ad una temperatura inferiore a meno 20 gradi le aveva messe nel vano di carico con l'impianto di refrigerazione spento. Gli agenti che hanno sanzionato il conducente con 1000 euro di multa hanno accertato che spesso gli autotrasportatori al fine di risparmiare sul carburante spengono volutamente questi impianti di refrigerazione. Nel caso dei trasporti per i paesi balcanici e per la Grecia che si imbarcano al porto di Ancona è stato scoperto che l'impianto viene poi rimesso in funzione una volta caricato il veicolo sulle navi, usufruendo dell'energia elettrica del mezzo di navigazione. Cambiamo argomento, ci spostiamo nel quartiere della Travia Fano per parlarvi di un'area lasciata all'abbandono ormai da diversi anni. Si tratta di Casa Bartoli per la quale, soprattutto i residenti, chiedono da tempo un intervento di riqualificazione. Questa è Casa Bartoli, quella che i residenti del quartiere Trave chiamano l'abitazione dei Marcon, riprendendo il cognome della famiglia che ci risiedeva. Si trova in via del torrente e da oltre 30 anni è lasciata l'abbandono con il conseguente degrado anche dell'area circostante. Giusto ieri, nel pomeriggio, è andato a fuoco un camion parcheggiato poco distante, fermo da circa 20 anni, è posto sotto sequestro. Pure l'intorno oggi è pieno di vegetazione spontanea, sul rogo forse doloroso proseguono le indagini. Intanto gli abitanti continuano a chiedere, a gran voce, una riqualificazione dell'intera zona. È di proprietà del comune di Fano, è una casa che potrebbe essere recuperata per tutto il quartiere, per tutta la città. Ci sono diversi progetti, ma progetti rimasti tutti nel cassetto. Quello che vediamo è l'attuale situazione. Degrado assoluto, vegetazione abbandonata da 30 anni. Ora, ultimamente, con tanti ragazzi che entrano dentro per giocarci, per farci altre cose, ma con un grado di pericolosità tremendo. È stato anche oggetto in passato di sgombri con delle famiglie che stanziavano all'interno. Vorremmo che questa zona fosse un attimo recuperata, recuperata o facendoci anche uno sgambatoio. Adesso al momento sulla parte qui verde che vediamo, voglio dire, così può essere ripulita e sicuramente utilizzata da tutto il quartiere, ma anche da altre persone che vengono da fuori Fano. Inoltre, può essere nel progetto che condividiamo, voglio dire, c'è il progetto iniziale, ma basta portarlo a termine, è quello di farci una sede, una risultazione completa e farci anche delle sede di associazioni, diciamo, sia di quartiere che cittadine che altri enti che magari potrebbero utilizzare questa struttura. Architetto dunque potrebbe essere messa a disposizione della comunità? Senz'altro, una struttura storica, una struttura che il quartiere conosce bene, una struttura che anche come toponimo ci ricorda la vita che c'era all'interno di questa che era una casa colonica. Oggi, comunale, ci sono stati bei progetti, grandi progetti, progetti purtroppo non realizzati. Mi viene da dire che forse si potrebbe provare a spezzettare un po', a volare un pochino più basso, cominciare a pensare di metterla proprio a servizio del territorio, cominciare a dare una responsabilità anche all'associazionismo locale, ma oppure tante situazioni che potrebbero venire fuori e potrebbero rendere questo spazio non più uno spazio degradato in mano a nessuno, ma uno spazio utilizzato da tutti. E soprattutto dal quartiere. E mentre per Casa Bartoli si attendono risposte per l'ex zuccherificio, sono arrivate buone notizie. Infatti, la struttura che si trova a sud della città e che per anni è stata al centro del dibattito politico, è stata acquistata da due imprenditori locali, Paolo Andreani e Giancarlo Paci. Ne parliamo con il sindaco di Fano, Massimo Seri, che abbiamo in collegamento. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Intanto le chiedo come sta, visto che oggi è il settimo giorno di isolamento a causa della sua positività il Covid. Beh, direi il nono giorno. Ah, nono. Fortunatamente mi sono negativizzato proprio oggi, poche ore fa. Bene, dicevamo ci sono dunque importanti novità per l'ex zuccherificio, chiuso ricordiamo dal 1992, quindi una vicenda politico-amministrativa che dura da ormai 30 anni, l'area complessivamente di 120 metri quadrati, di cui più di 50 costituiti da scheletri di prefabbricati. Ha avuto modo in questo periodo di incontrare i due imprenditori? Sì, abbiamo avuto modo di incontrarci un po' di tempo fa, con i ragionamenti. Io accolgo come una buona notizia che ci sia stata questa operazione perché parliamo di imprenditori locali, di imprenditori seri che conosciamo e finalmente ci sono degli interlocutori diretti veri, che possono consentirci di guardare con una prospettiva più vicina, ma soprattutto più concreta, perché è una zona che inevitabilmente col tempo ha visto un degrado crescente, è una struttura, un'area imponente, importante, che richiede inevitabilmente anche investimenti significativi, quindi è importante che qualsiasi progetto deve avere anche una sostenibilità economica perché altrimenti gli investimenti non arrivano. Da parte nostra c'è una massima disponibilità a ragionare per ovviamente interventi e progetti che abbiano una finalità che sia consona con quella che è l'area e la sua posizione. Ecco, si è parlato di una valle dell'idrogeno, di un maxi outlet, però ancora nulla di definitivo, è così? Beh, ci sono alcuni riferimenti, adesso siamo in una fase anche di bandi PNNR che mettono risorse importanti, quindi so che stanno guardando con attenzione anche a queste opportunità, se vengono sarebbe un grande risultato, però possono essere diverse le opportunità, quindi diciamo ad oggi esprimiamo un plauso e accogliamo come elemento molto positivo questa novità. Sindaco, ne approfitto perché poco fa abbiamo sentito anche un appello dei residenti della zona trave per Casa Bartoli, quali progetti avete per quell'area? Beh, quella è un'area importante, sta in un contesto significativo, noi abbiamo un percorso che non è rimasto fermo, però richiede risorse significative, fra l'altro proprio in questi giorni abbiamo ragionato di inserire queste progettualità anche nel piano PNNR, alcuni bandi che sono in scadenza anche a breve, il tema vero è che è vero che è una casa colonica ma ampia e le risorse che occorrono sono significative, quindi secondo me ci sono due elementi, uno più immediato è quello di mettere in sicurezza quello spazio e capire se si può parlare di demolizione e poi un'eventuale ricostruzione oppure degli interventi che possono evitare determinate situazioni che si sono create anche recentemente. Dall'altra il riferimento è anche all'area del suo insieme, anche su questo ci saranno delle novità perché abbiamo appena presentato partecipando a un bando sport periferie proprio per la struttura dell'atletica leggera che dialogherà anche con la parte antistante e cioè dove c'è quell'area verde dove ovviamente verrà interessata per una risistemazione che vedrà con il suo mantenimento ovviamente di verde che vedrà legata come dicevo l'impianto sportivo una migliore accoglienza. Dalle notizie che abbiamo il bando è uscito adesso ma le risorse saranno sufficienti per dare risposte a quasi tutti i progetti presentati perché il contenitore vede molte risorse quindi siamo molto ottimisti in questo senso. Sono due che potranno vedere anche un domani un ingresso anche dal retro quindi andrà a gerevolare anche la zona della Paleotta che vedeva anche un sacrificio situazioni di disagio legati a quell'ingresso quindi una duplice attenzione che ovviamente non può essere immediata perché parliamo di risorse significative però da subito è un impegno che mi prendo anche con la struttura di analizzare come poter intervenire per mettere in sicurezza. Però posso aggiungere che proprio nella variazione ultima abbiamo già inserito nel piano triennale anche Casa Bartoli tra gli investimenti che questa amministrazione vuole fare. Sindaco grazie per aver fatto chiarezza e soprattutto per aver dato una risposta ai nostri telespettatori. Buona serata. Grazie e buona serata a voi. Nuovo incontro sull'Adriatic Link domani mercoledì 27 aprile alle ore 19 nella sala parrocchiale di Carrara l'amministrazione comunale di Fano e i tecnici di Terna illustreranno gli interventi relativi alla realizzazione dell'infrastruttura e i ristori a beneficio della comunità. I consiglieri comunali della Movimento 5 Stelle hanno depositato una interpellanza per avere informazioni sulla chiusura dei passeggi a Fano. Infatti da tempo i cittadini segnalano che uno degli ingressi rimane sempre aperto anche di notte, hanno precisato nella nota, a causa della mancanza di una parte della recinzione e del cancello. I pentastellati chiedono quindi quali siano le intenzioni della Giunta riguardo alla sistemazione di questo polmone verde della città e a che punto è il progetto dell'Enel che prevedeva l'installazione di alcune panchine tecnologiche con defibrillatori, postazioni di ricarica di vice elettriche e la videosorveglianza come annunciato dall'assessore competente a giugno dello scorso anno. E noi oggi abbiamo sentito l'assessore Barbara Brunori che domani mattina mediante un'intervista ci annuncerà tutti i progetti previsti per i passeggi. E adesso le segnalazioni dei nostri reporter di strada. Partiamo dal parcheggio di Via Roma dove un telespettatore segnala un palo dell'illuminazione pubblica da sistemare vicino al parchimetro. Come vedete dal video c'è uno sportellino aperto con i fili elettrici in vista e almeno così da due settimane ci ha scritto e potrebbe essere pericoloso dunque va sistemato. Invece un altro reporter di strada dal quartiere Vallato ci ha inviato questa fotografia con su scritto riparazione della strada in via Rosmini senza parole. Infine l'ultimo scatto ci è arrivato da località Monte Schiantello dove segnalano il verde incolto ai lati della carreggiata c'è una bellissima fioritura gialla ci ha scritto il telespettatore ma noi tra un po' dove passiamo si chiede. Cambiamo argomento parliamo di arte perché sabato scorso è stata inaugurata la prima delle otto mostre in programma alla Rocca Malatessiana di Fano pronta ad ospitare artisti locali e internazionali. La Rocca Malatessiana di Fano è in pieno fermento in programma otto nuove mostre di artisti contemporanei allestite sia nel salone delle esposizioni al primo piano che nelle suggestive ex cellette e nella ex galleria d'armi. Sabato scorso è stata inaugurata la mostra Mutogenia di Andrea Montagnana un giovane designer nato a Fano ma residente a Piobbico che propone un percorso realizzato con materiali di una ditta di cagli. Il visitatore sarà immerso dai segni di Andrea fin da quando percorrerà l'ex ponte elevatoio dove sarà disposto un marciapiede fatto di sassi blu un perimetro che delinea quella parentesi quadra che è stata evidenziata nel logo della Rocca dopodiché si avrà la possibilità di ammirare la grande scultura teatro e la personale di Montagnana al piano superiore. Le otto mostre che presenteremo sono nuove esposizioni create appositamente in questo spazio quindi è diventata la Rocca un atelier una sorta di fabbrica di artisti perché noi ospitiamo artisti sia fanesi ma anche artisti internazionali leggendo il programma ci accorgiamo che c'è una sorta di elastico sul piano della programmazione in quanto proponiamo sia artisti come Paolo del Signore come Beppe Sapatino come appunto Stefano Furlani ma anche grandi artisti americani quindi un omaggio a Eire un musical la figlia del produttore sarà qui con la sua mostra e poi avremo di nuovo il meeting internazionale mai più ferite che l'anno scorso vede la partecipazione di Herman Meta grazie a queste iniziative ha proseguito Pugliani daremo spazio anche agli artisti che non hanno avuto la possibilità di esporre durante l'anno nel nostro territorio in particolare poi sulla prima mostra il direttore artistico ha illustrato le particolarità tra queste una installazione di 6 metri per 4 il visitatore viene a vedere lo spazio e si accorge che c'è una grossa scultura quando questa scultura poi verrà utilizzata da altri musicisti artisti proprio sopra la scultura stessa ecco che nascerà questo incontro voluto dall'artista che permetterà di far vivere direttamente l'opera d'arte L'ingresso alle mostre sarà libero dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 mentre sabato e la domenica dalle 16 alle ore 18 Dopo il progetto di aperture che abbiamo presentato la scorsa settimana Primavera al Museo che dà la possibilità di una serie di aperture nella città e quindi di vedere la città aperta e fruibile da parte dei turisti che verranno nella città Ecco un grande progetto presentato oggi dalla Rocca Melatestiana una serie di mostre permetteranno di visitare la Rocca sia dal suo punto di vista storico quindi raccontare la storia della nostra città ma anche raccontare l'arte locale e nazionale che insomma verrà espressa nel bellissimo salone espositivo della Rocca Melatestiana Riconoscimento del Consiglio regionale per gli autisti dell'azienda Contram di Camerino che hanno prestato servizio tra le Marche e la Polonia al confine con l'Ucraina per portare in salvo la popolazione in fuga dalla guerra a consegnarlo prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea Legislativa il Vice Presidente Gianluca Pasqui che ha ringraziato ed elogiato i conducenti per l'importante meritoria opera svolta un grande gesto ha sottolineato che va oltre allo spirito di servizio che ha permesso di portare in salvo in due viaggi distinti 61 persone principalmente donne e bambini premiato anche il Presidente dell'Azienda di Mobilità Pubblica Stefano Belardinelli ci tengo a ringraziarlo ha concluso Pasqui per quanto ha fatto negli ultimi anni prima per le popolazioni terremotate poi nella gestione della pandemia con la riconversione di alcuni mezzi e fini sanitari e da ultimo con la splendida azione umanitaria Questa sera a Fano TV ringrazia altri quattro sostenitori Anna Mazzieri, Fiammetta Orazzi, Marco Gasparini e Delonora Morgani grazie a tutti voi Il nostro telegiornale termina qui torna come sempre domani sera alle 20.30 e dunque buona serata a tutti voi arrivederci Grazie a tutti